Musica Io do il benvenuto ai Salesiani, a quanti amano Don Bosco, nato 200 anni fa, eppure così moderno. Musica Ho colto il messaggio principale, secondo me, di Don Bosco, questo punto di riferimento dei giovani di camminare insieme a loro, dandoci la mano e proseguendo il nostro camminare. Musica 5 bellezze dei giovani d'oggi, quella che dice no, non ci sto, il volontariato, poter essere attivi, partecipi a la vita del paese. Cercono di essere loro i padri, perfino di noi stessi, credere alla bellezza del Vangelo, delle beatitudini. Chiaro, ufficialmente aperto, la celebrazione del bicentenario dell'Italia del Cielo. E' bella la gioia, è bello il dono di sé, è bella la gioventù. Rendiamo bella la gioventù dei nostri giovani, dando loro istruzione, educazione, lavoro, una casa, possibilità di costituire una famiglia. Ecco, celebrando questo centenario, sì, ricordiamo Don Bosco, ma anche noi facciamoci operatori attivi per rendere bella la vita dei giovani. Sì, sì. Sì. Oh, you pray all the games are love. Apri il nostro cuore a Cristo, sostieni il nostro impegno in questa società. Sì, sì. Si vede, si sente, lo posto si imprende, si vede, si sente, lo posto si imprende.